E' un'altra categoria, troppo spesso vittima di una giustizia che non funziona. I medici che ci salvano la vita, che fanno un lavoro importantissimo. Facciamo un bel applauso per i medici dal gruppo Sanità di Milano. Claudio Cogliati! Grazie Matteo Salvini di questo invito, grazie Piazza del Popolo, grazie Roma così ospitale con noi, grazie. Io sono un medico, sono uno dei 715.992 operatori del Servizio Sanitario Nazionale. Bene, noi siamo medici, infermieri, tecnici, riabilitatori, personale, laureato, medico o non medico, amministrativi. Facciamo funzionare la baracca. Noi tutti, anche i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, dal 2010 non abbiamo il contratto. Ma questo ci importa poco perché il Censis, 48esimo rapporto uscito in questi giorni, lo leggo testuali parole, l'86% dei cittadini ritiene che il sistema sanitario nazionale sia fondamentale per la salute e il benessere di tutti. Presidente Renzi, Presidente Renzi, ricordatelo, non tagliare i soldi per il pronto soccorso di tutta Italia. Ministro Lorenzin, in 8 anni, 20 manovre finanziarie, 122 miliardi di risparmio. Voi sapete chi ha dato? Lo Stato e i ministeri il 13%, le regioni il 38,5% e qui ci sono due presidenti delle regioni. Sanno benissimo, Maroni e Zaia, che il 75% è spesa per la sanità. Eccoli, non tagliate ulteriormente, Ministro Lorenzin, non giochiamo al tavolo delle tre tavolette, ci dai 480 milioni per i nuovi Lea ma ce ne togli 2.500, alla fine ce ne mancano 2 miliardi che loro devono sistemare perché lui e lui taglieranno i ticket. Nonostante i tagli di Roma, nonostante il ministro Lorenzin, tu taglierai 2 miliardi, loro taglieranno i ticket per gli anziani. E' un impegno della Lombardia e anche del Veneto. Attenzione, l'ultima cosa. Grazie Presidente. Molti di noi lavorano come volontari, molti di noi sono stati in stazione centrale in questi mesi fino al 31 dicembre a curare le persone, quei disgraziati che arrivavano in stazione centrale, come volontari. Medici, pediatri, infermieri, però attenzione, questo noi continueremo a farlo perché noi lavoreremo sempre in maniera volontaria. Ma attenzione, noi abbiamo curato gli stranieri temporaneamente presenti sul nostro territorio e per dieci anni abbiamo speso 100 milioni. Io vi dico i dati della Lombardia, moltiplicateli più o meno, ma in Lombardia sono stati spesi 100 milioni. Ministro Alfano, quando ci darai questi soldi? Ministro Alfano, dobbiamo rivolgerci alle prefetture? Dobbiamo fare delle azioni giudiziarie per farci dare i nostri soldi perché questi soldi sono soldi che vengono tolti ai nostri anziani. Ma noi abbiamo anche i giovani, abbiamo gli specializzanti, abbiamo i giovani medici. Ministro Lorenzin, anche qui, che pasticcio, con le scuole di specialità, che pasticcio! 6.000 persone, 6.000 teste, 6.000 ragazzi fuori, non entrati in specialità e tra un po' non avremo specialisti. Ministro Lorenzin, ricordati, non farli andare all'estero, farli rimanere qui. Guardiamo, soprattutto a loro e ai giovani. Grazie!